In tempo di crisi economica è sempre una buona notizia, un'azienda che raddoppia, è il caso di Uno Maglia, stabilimento del Valdarno che lavora maglia in jersey. Noi produciamo abbigliamenti in jersey, abbiamo questa specializzazione. Ora il jersey è una materia molto eclettica, molto duttile, perché in jersey si possono realizzare delle semplici t-shirt oppure degli abiti molto molto complicati. Il jersey è una materia che può andare dagli 8 euro al metro agli 80 a secondo di quello di cui è composto. Noi siamo particolarmente bravi, soprattutto nella realizzazione di abiti da donna. La modelleria di questo tipo di abbigliamento richiede una particolare capacità di gestire una materia che è bielastica, che quindi ha delle caratteristiche molto piacevole nell'indossare, ma molto molto difficili da trattare nella progettazione e nella produzione. Circa 100 i dipendenti attuali, l'azienda, ha così deciso di continuare a rimanere in Italia e investire nel nostro paese. Sono i nostri clienti che non ci chiedono di delocalizzare, ma anzi di produrre qui nel territorio e che si rivolgono a noi. Un made in Italy e dovrei dire un made in Toscana barra Umbria, perché poi il nostro distretto produttivo è un distretto molto molto di prossimità.